I sindaci della costa toscana uniti per far fronte all'antitrust, che ha impugnato le proroghe che prolungano le concessioni balneari. Continua a tenere banco e fiato sospeso tra incertezze e polemiche la questione spiagge e stabilimenti. In Italia sono 47 i comuni contro cui negli ultimi tre mesi l'autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo alcuni richiami, ha fatto ricorso al TAR, contestando ai sindaci di aver violato, concedendo proroghe, i principi concorrenziali. Una vicenda che ha visto in prima linea anche la regione, con il varro di una legge regionale che fissa premi alle imprese esistenti nella giudicazione e un equo indennizio a carico di chi subentra per chi dovesse perdere la gara. Sul fronte europeo invece si spinge in senso opposto e entro il 31 dicembre le gare si devono svolgere. I primi cittadini fanno muro e già confermano che non ritireranno le proroghe. Si preannuncia una battaglia aperta che ancora oggi, a distanza di mesi, si barcamena tra dubbi e poca chiarezza.